Ero passato per Benaghir circa un anno prima, la trovai molto cambiata, e anch'io ero cambiato. Promosso tenente ero stato a casa in licenza premio, ma non fu un bel premio. Luisa la mia ragazza non era più la mia ragazza, e anche mamma e papà non erano più loro, erano rassegnati e noiosi. Non trovai più il mio reparto, si era dissolto, ma dovevo raggiungere la prima linea la mattina dopo. Avevo qualche ora da spendere.